Musica Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. L'Italia intera in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. E' questo ciò che ipotizza il ministro Roberto Speranza e il premier Giuseppe Conte che si sono incontrati ieri con le regioni dove si è attuata la zona rossa nello scorso mese. C'è stato subito infatti un brusco calo dei contagi mentre le regioni che sono state gialle hanno subito un abbassamento della curva decisamente più dilatato nel tempo. Anche il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia condivide la linea di pensiero del governo. Troppo pericoloso tenere aperti nelle festività natalizie ma se da un lato il governo sembra essere coeso sulla decisione i rappresentanti delle regioni hanno pareri discordanti. Zaia, governatore del Veneto, si è detto d'accordo a misure più restrittive nel periodo natalizio. Invece Toti, presidente della regione Liguria, tuona. Perché devo imporre la zona rossa ai Liguri se c'è un RT sotto lo 0,7%? Sono 17.572 nuovi casi da Covid-19 in tutta Italia a fronte di 201.040 tamponi eseguiti per una percentuale di positività al test dell'8,7% in discesa rispetto alle ultime rilevazioni. Si segnalano però altri 680 morti che fanno superare quota 66.000 decessi da inizio pandemia nel paese. Dal bollettino diramato dalla protezione civile si segnalano anche 34.495 nuovi guariti che portano ad un decremento degli attualmente positivi su tutto il territorio di circa 18.000 unità. Il totale dei positivi in Italia è 645.706. Altro calo nelle terapie intensive sono meno 77, infatti i posti occupati. Sono invece 900 i casi da Covid-19 nella regione Campania, secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi su 14.757 tamponi processati per una percentuale di positività al test del 6%, meno un punto e mezzo percentuale. Rispetto alla giornata precedente al bollettino si segnalano anche 2.904 guariti e altri 34 decessi, di cui 10 nelle ultime 48 ore e 24 nei giorni precedenti. Situazione terapia intensive occupati, 124 posti letto su 656 disponibili. Il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro non si è ripetuto, nonostante un'intera giornata di preghiere il sangue del santo patrono di Napoli non si è sciolto e la teca è stata riposta nella cassaforte della Cappella del Tesoro per la delusione dei fedeli che si erano radunati nella cattedrale di Napoli. L'ultima volta in cui il miracolo non avvenne era stato nel 2016. Sono 202 nuovi casi di positività al Covid-19 di Caserta, a fronte di 2.503 tamponi processati per una percentuale di positività al test dell'8%. I guariti segnalati nell'ultimo bollettino dall'asla di Caserta sono 823 ancora in aumento rispetto agli ultimi giorni, ma rimangono alti anche i decessi, ben 4 nelle ultime 24 ore. Si tratta di persone residenti a Curti, Sant'Angelo d'Alife, San Nicola la Strada e Mondragone. Le città con il maggior numero di attualmente positivi a Caserta sono Santa Maria Capoavetere, Sessa Orunca e San Presco. È stata avviata ieri l'installazione della nuova segnaletica turistica al centro di Caserta, un progetto che ha come finalità il miglioramento della fruibilità turistica della città, a partire dai siti UNESCO anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. La segnaletica del piano di comunicazione turistica si presenta omogenea e parte dai principali beni monumentali come la Reggia, il Belvedere di San Leucio e Caserta Vecchia, fino ad arrivare a luoghi più nascosti ma altrettanto significativi dal punto di vista storico, artistico e monumentale, come la chiesa di San Rufo Martire, a piedi monte di Gasolla e l'abbazia di San Pietro Ad Montes. Non sono non solo segnali stradali ma anche tabelle descrittive che accompagnano il turista in veri e propri itinerari alla scoperta della città, percorsi che presto verranno supportati anche da un'app per smartphone con la quale si potrà accedere ad una piattaforma multimediale dedicata, plurilingue ed accessibile da QR code, grazie alla quale i visitatori potranno ottenere numerose informazioni aggiuntive sui siti di interesse. Un grande Napoli esce sconfitto da San Siro per 1-0 contro l'Inter, primo tempo avario di emozioni, la partita infatti è stata impostata in maniera encomiabile sul piano tattico da i due tecnici Antonio Conte e Gennaro Gattuso. Gli azzurri hanno provato a fare la partita ma nella prima frazione hanno faticato a rendersi pericolosi, il secondo tempo invece è stato completamente diverso, i ritmi si sono notevolmente alzati, i partenopei hanno sfilato più volte il gol, trovandosi di fronte un Sami Randanovic in versione Superman. Al minuto 70 la svolta del match, Ospina abbatte in area Darmian, per l'arbitro Massa nessun dubbio, il calcio di rigore è giallo al portiere napoletano, ma in segne va a dire qualcosa al fischietto di Imperio. Ed esce l'espulsione, Lukaku realizza il rigore e porta avanti l'Inter. Nulla è servito il forcing finale del Napoli che non ha prodotto i suoi frutti, nonostante un politano in grande spolvero il palo conclusivo di Petagna termina 1-0, quindi l'Inter seconda a meno 1 dal Milan capolista, Napoli quarto in attesa, della Roma impegnata questa sera contro il Torino. L'episodio Massa Insigne farà discutere, e ha fatto già discutere un gattuso furioso, infatti si è presentato ai microfoni di Sky. Insigne è buttato via per una frase rivolta all'arbitro Massa, un direttore di gara come lui non può essere permaloso, un rigore dubbio che può causare questa reazione, ci vuole un po' di attenzione e un po' di elasticità, non si può cacciare via un capitano in questa maniera. In Inghilterra non sarebbe mai successo, so perfettamente quanto sia duro fare l'arbitro, ma ci vorrebbero maggiore comprensione da parte di tutti. Rimane una grande prestazione la nostra, mi tengo la reazione, mi tengo la prova, a livello tattico e non solo. Il primo tempo è stato avaro di emozioni, perché tatticamente le due squadre sono state perfette, nel secondo sono cambiate le cose, e ai punti meritavamo la vittoria noi, ma nel calcio vince chi segna. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto appuntamento, tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci!